Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In quest'ultimo video di The Last of Us 2 vi spiegherò come aprire l'ultima cassaforte con la premessa che manca all'appello una cassaforte che vi mostrerò appena possibile. Per il resto potete trovarle tutte nel canale. Allora, la cassaforte in questione è nella reception dell'hotel. La password è praticamente disseminata per l'intero hotel. Appena siete arrivati, aprite questa stanza e consultate questo cartello, Free Wi-Fi. Questo cartello lo troverete spesso nell'hotel ed indica appunto la combinazione per aprire la cassaforte. Detto questo, apriamo dunque la cassaforte, quindi richiamoci alla reception. Allora, la cassaforte praticamente è vicinissima. Dovete entrare in questa porta, già aperta tra l'altro, aprire questa porta e voilà! L'ultima cassaforte del gioco. Quindi, la combinazione come vi ho mostrato prima è 12, inserisci 18, inserisci 79. e la combinazione funziona, quindi la cassaforte è aperta.